Anticipazione Il segreto, Marcella scopre che Mattias l'ha tradita con Beatriz Nelle prossime puntate del Segreto, Marcella scopre il tradimento di Mattias con Beatriz La figlia di Paco si trova, finalmente, di fronte alla verità, origliando una conversazione L'unica con cui riesce a parlarne è Adela Ricordiamo che Mattias ha iniziato a vedersi con Beatriz per qualche tempo, mentendo a sua moglie Quest'ultima è corsa a cercarlo, temendo che il Castaneda potesse trovarsi in difficoltà a causa di un temporale La sua ricerca l'ha portata a finire incastrata sotto un albero Quanto accaduto porta Mattias a provare dei forti sensi di colpa Infatti, il giovane Castaneda arriva anche a confessare la sua relazione clandestina a Emilia e Alfonso Mentre quest'ultimi cercano di riportare sulla retta via il figlio, Beatriz continua a cercare un confronto con il suo amato Ma vi anticipiamo che Mattias decide di essere fedele alla moglie, rinunciando per sempre al suo amore con la dose Casas Nonostante ciò, Marcella viene messa di fronte alla verità Anticipazioni in segreto, Marcella nel dolore si confida solo con Adela Marcella ascolta una conversazione molto importante, origliando di nascosto In questo modo riesce ad arrivare finalmente alla verità Infatti, la figlia di Paco scopre che Mattias l'ha tradita con Beatriz Questa notizia la porta a provare un dolore immenso Nonostante ciò, non riesce a parlarne con i due amanti, prefendo mantenere il silenzio Marcella si chiude in se stessa, dimostrando di stare molto male L'unica persona con cui riesce a parlare di questa sua scoperta è Adela La maestra di punte viejo cerca, a questo punto, di risollevare l'animo della giovane e di darle il giusto consiglio Il segreto anticipazioni, Mattias chiude con Beatriz Marcella ascolta il consiglio di Adela Adela sta accanto a Marcella, consigliandole di locare per il suo matrimonio In particolare, la compagna di Carmelo le suggerisce di non restare in silenzio di fronte alla scoperta del tradimento del marito Inoltre, le consiglia di salvare l'amore che prova nei confronti di Mattias Intanto, dalle anticipazioni sappiamo che Beatriz è costretta ad allontanarsi dal Castaneda e si avvicina inevitabilmente ad Aquilino Da qui un forte colpo di scena coinvolge anche Marcella Inoltre, la sua scoperta è costretta ad allontanarsi dal Castaneda e si avvicina in silenzio di fronte alla scoperta